Attimi di paura ieri nella chiesa di Sant'Antonio a Brancaccio dove alcuni individui a volto coperto si sono introdotti e hanno minacciato con un coltello il parco Don Raffaele del Duca che ai nostri microfoni rassicura la comunità. Grazie della preoccupazione però tutto tranquillo sto bene dopo la paura di ieri mattina poi sto bene. Nelle parole del sacerdote il racconto dell'accaduto. Io ieri mattina apri regolarmente alle sette come ogni mattina ero venuto qui dopo che ho aperto la chiesa ero venuto in sacrestia per prepararmi per il rosario e per la messa avevo messo il camice e la stola quando arrivarono due persone tutti incappucciati e mi costrinsero con un coltello a restituire i soldi a dare i soldi dammi soldi dacci soldi dicevano io pigliai il portafogli dalla dalla tasca ci stavano 20 euro loro mi dissero subito ma è impossibile tu abbia soltanto questi soldi quindi andiamo sopra perché certamente sopra c'hai i soldi e quindi mi costrinsero con il coltello ad andare sopra entrammo nella stanza da letto dove tenevo i soldi e presero 1.400 euro e si presero i cellulari e poi mi chiusero dentro e se ne andarono mentre uscivano stava mia nipote qui che va a lavorare al casa dell'ospizio all'ospizio qui a torre del greco e li vide scendere e naturalmente si preoccupò perché non vide nessuno in chiesa la chiesa stava aperta quindi si preoccupò loro uscirono e lei venne sopra a vedere che cosa fosse successo e quindi mi trovò chiuso dentro e meno male che aveva le chiavi quindi aprì e mi liberò la polizia ha acquisito immagini della telecamera tutto tutto tanti auguri a tutti tutta la comunità si è stretta subito intorno al parroco tanti i messaggi e le parole di vicinanza sono le prime ore siamo ancora all'alba di questo ulteriore tempo di grazia che la tenderezza di dio ci ha regalato nonostante tutto c'è questa difficoltà che ha coinvolto il nostro parroco ma anche ha investito l'intera comunità parrocchiale che gli con grande zelo veramente posso testimoniare sulla scia e l'esempio del di san vincenzo romano porta e porta avanti con tanta benegazione gli vogliamo dire che la comunità gli è vicina la comunità è stretta accanto a lui partecipa del suo dolore naturalmente e lo avvolge di tenerezza affidandolo all'intercessione potentissima dell'immacolata per chi lo consoli e lo renda sempre di più nonostante tutto il segno visibile di quel bambino che è nato a betlemme che muore sulla croce per noi e che il gesù salvatore il nostro fratello il nostro amico colui che ha detto io sono sempre con voi fino alla consumazione del tempo siano questi gli auguri per tutti coloro che ci ascoltano e siano anche questi gli auguri di vicinanza della nostra comunità verso il nostro carissimo Don Raffaele